Mancano ancora i decreti attuativi, per questo il nuovo sindacato Carabinieri ha fatto anche un appello al nostro ministro della difesa, Crosetto, al nostro condante generale dell'arma, affinché i decreti attuativi fossero approvati nel più breve tempo possibile per permettere alle sigle sindacali di poter operare a 360 gradi, ringraziando al cielo ormai una legge esiste e quindi è arrivato il momento di poter agire serenamente. In questo momento ci troviamo purtroppo con una rappresentanza militare ancora attiva, un'associazione sindacale che lavora a fianco, ma chiaramente in questo momento la nostra istituzione è come se avesse due interlocutori, la rappresentanza militare che ormai è storica e i nuovi sindacati che sono emergenti e quindi ormai prendono ogni giorno più spazio di quell'interno della nostra istituzione. Fondamentalmente il lavoro dell'istituzione è rappresentanza militare e sindacale è molto simile, lavoriamo insieme per lo stesso identico motivo, cioè il benessere del personale e quindi il benessere della nostra stessa istituzione. Però adesso è arrivato il momento di cambiare passo e dare assolutamente più spazio alle associazioni sindacali che possono anche affacciarsi all'esterno, quindi anche avere parte attiva nella vita sociale del cittadino siciliano, quindi non soltanto da carabinieri all'interno dell'istituzione ma anche proiettati verso l'esterno. Lei parlava di benefici per chi è nell'arma, ma in genere qual è l'importanza di un'associazione sindacale? Le associazioni sindacali, per come noi le interpretiamo, fanno il benessere dell'istituzione, quindi il carabiniere che sta bene, che lavora in serenità, che ha i mezzi, gli strumenti per lavorare, quindi fa il benessere proprio ma chiaramente di un'istituzione che rappresenta. L'arma da 200 anni, Ringrazio il Cielo, ha sempre ottenuto grandi risultati grazie al personale e vogliamo mantenere alte performance anche per il futuro, appunto mantenendo sempre il personale nelle migliori condizioni possibili di lavoro, quindi con chiaramente strumenti nuovi per lavorare ma soprattutto con la serenità necessaria nei reparti dove si possa convivere serenamente non soltanto con le strumentazioni ma anche proprio nei rapporti umani con i nostri superiori. Noi non abbiamo rappresentanza femminile né a livello locale in Sicilia, dove non esiste una donna a rappresentare i bisogni delle colleghe, né a livello nazionale, quindi nell'organismo più alto di rappresentanza militare che sono, diciamo, quegli organismi in via di abrogazione. A differenza nostra, dove a NSC abbiamo un presidente che è donna e diversi dirigenti sia a livello regionale qui in Sicilia, sia a livello locale, a livello provinciale. Secondo lei perché avviene questo? Le donne fanno sempre un passo indietro o sono gli uomini che ostacolano il cammino? Perché forse ancora in Italia siamo indietro, siamo indietro e del resto la legge, la nuova legge sulle organizzazioni sindacali ci spinge a richiedere le pari opportunità e quindi a richiedere una maggiore presenza delle donne.